Buongiorno ragazzi, oggi voglio fare una super sorpresa Vanessa e Anastasia e le voglio portare in centro a fare una colazione super perché del resto siamo in vacanza e quando siamo in vacanza voglio coccolarle un pochino di più scrivetemi nei commenti la vostra colazione di questa mattina e andiamo a svegliare Vanessa e Anastasia Buongiorno, andiamo a fare colazione in centro? Ehi, buongiorno Buongiorno Buonissimo amore, ma sei già pronta? Codine Facciamo le codine? Dai che la nonna ci sta aspettando, adesso facciamo una super colazione al bar Sì, Vanessa adesso si deve alzare un bel Eh, ma Vanessa adesso si deve alzare però, eh, adesso mi arrabbio Andiamo a svegliarla dopo, va bene? Facciamo i codini? E tu cosa? Eh, ma io voglio ci prendo la cremetta Bravo Esatto, adesso lo facciamo Senti, ma tu cosa mangi al bar stamattina? Il bombolone Il bombolone alla crema, anch'io Anzi no, io mangio il toast Vuoi il toast? Ok E' la prima volta Va bene Anzi no, adesso ci mangio il toast Anzi no, adesso ci mangio il letto Il letto Vediamo il letto da mangiare se non si alza Ok, allora facciamo i codini Buongiorno amore mio Ben sveglia Andiamo a fare colazione in centro? Eh, una super morning routine questa mattina Ancora stanco amore amore Ci sono svegliati presto, non siamo più abituate Ma c'è la nonna che ci aspetta Cosa mangiamo a colazione? Tua sorella vuole il toast Un bel bombolone alla crema Vediamo cosa c'è Vai, vai a lavarti E vi aspetto giù Ah, che bella pippi calze lunghe che abbiamo qui I codini Che bella Brava Lava i dentini anche te Brava amore mio Ok, andiamo? Siamo pronte? La nonna ci aspetta Adesso la chiamiamo Andiamo Ti è carina E tu? Bella Quei pantaloncini verdi Come mi piacciono Bella amore mio Andiamo va E lei dici che stiamo arrivando a prenderla? Sì, e chi è arrivato? Eccola Ciao Quella che farà un boom di like anche questa volta Vero nonna? Ok Andiamo a fare colazione? Sì Andiamo poi a fare shopping Per le mie nipotine La nostra morning routine in vacanza con la nonna Siete pronte? Siete cariche? Avete fame? Andiamo dai Non parlate troppo eh Siamo arrivate in centro E adesso mangiamo tutto Cosa c'è? Perché sei arrabbiata? Sei arrabbiata Ma sei offesa per qualcosa? Hai fame? Ciao Quanto tempo? Ciao Hai sete? Puoi guardare qua Se no sei così Cosa hai preso da bere? Cappuccino Cappuccino bianco Gli ho detto Senza caffè Senza niente E poi abbiamo preso i bacetti Ma non ne mangi uno? Sì lo so che sono tu Io ho la brioscina E tu? Oh perché? Hai fame? Dici un po' ai tuoi amici Cosa hai preso da mangiare? Il toast? La colazione amore Vediamo un sorriso Vediamo un sorriso Vediamo un sorriso Amo Che cosa hai preso? Il toast? Ma che buono Come? Possiamo andare un po' A casa della nonna Amore siamo con la nonna A casa sua La nonna è la proprietaria Del centro di Novara Non lo sapevi? No scherzo Quindi no Non possiamo Perché oggi viene Maria Rosa E dobbiamo assolutamente vederla Perché dopo dobbiamo andare A comprare la telecamera nuova Che felicità Vabbiamo a vedere una faccia felice Di una telecamera nuova Senti Vane Io la voglia Rosa Può restare un po' Vane mi ha felicità Un pochino Vane Un pochino Vane mangi i bacetti L'hai già mangiato L'hai già mangiato Venti quel toast è molto invitante Poi me ne dai un pezzettino Anche io Anche tu No È tutto tuo Lo mangi tutto? Va bene Volevi il toast? E perché non me l'hai detto? Lo vuoi? Te lo prendo? Prendilo amore No Bevi anche il cappuccino Eh no Si ci pensa per un giorno Bevi Anastasia che hai diviso il toast con Vanessa Lo diviso io L'hai diviso tu perché Anastasia dopo un morso non ne voleva più Tu però bevi lo eh cappuccino Dai che dopo andiamo a fare shopping Ancora Da Zara Sì ancora amore ancora Ti voglio riempire di abiti La nonna che per la promozione di Vanessa Anastasia ha deciso di fare dei regalini da Zara Va bene? Dai finiamo questa colazione salata e andiamo A fare shopping? No Perché? Perché no E non compri niente Allora tu Niente niente Vabbè Anche sì perché ci sono le cale Voglio salire Vai bimbe Vanessa se ti piacevano i pantaloncini sono questi eh Bisogna solo scegliere o un colore o una taglia diversa Lei vuole il top Però non so bisogna vedere l'età Sei anni No se trovi cinque è meglio perché tu sei piccola Nove anni Questa è sei anni Hai trovato qualcosa adesso ti ho Guarda Dai trovo Prova quello sì Qual è? Vediamo Questo Vediamo Però è lungo eh non hai la pancia di fuori amore Ma devi per forza avere la pancia di fuori No è tre anni Ti piace questo? Sì Vuoi provarlo? Andiamo da Vanessa che sta provando i pantaloncini Vediamo un po' Mmm che carina Eh hai un bubone Un borso di zanzara Allora ti piace questa magliettina? Sì La vuoi? Non toglierla Ok Ti scelto allora? Cosa stai cercando? Cosa non trovi? Vediamo un po' Questi sono bellissimi Poi li facciamo vedere Bene Bene Vieni a vedere una cosa che mi piacciono tanto Guarda Questi completini da tenista Quanto mi piacciono Poi c'è una gonna Ci sono i pantaloncini L'abitino Questo è bellissimo E anche questo Se giocavi a tennis Te li compravo Ma non giochiamo a tennis Quindi niente Shopping finito Andiamo a fare Andiamo a pagare E un aperitivo Ok? Andiamo su Qualcuno vuole l'aperitivo? Io Sì? Per bere e mangiare cosa? Niente? Andiamo su? Andiamo Ragazzi Sono andate in bagno con la nonna E io ho preso loro Uno scherzo da farle dopo Aspettate che lo cerco Anzi Sono due Vediamo Se le vediamo arrivare Ditemelo Le caramelle Della Shocky Benz Rischia il gusto Dopo gliele facciamo assaggiare Ma non diciamo loro Che sono uno scherzo Offriamo loro una caramella E vediamo Che reazione avranno Cos'è che volete? No Quello ce l'avevo Ma l'avete dimenticato? Dov'è che ce l'avevamo Quello? A una festa Non mi ricordo All'oratorio All'oratorio? No no L'abbiamo portato a casa È vero E dov'è? Ho visto io Dai vedi cosa Cosa puoi trovare Di interessante Non voglio fare un altro colore No quelli no No quelli no No quelli no Perché? Perché non mi piacciono Quelle caramelle Non hai fatto a posto No 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 vai 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 Non ho qualcos'altro Posso scegliere le conti? No una sola Una sola Ehi Ho detto una Due Che cos'è quello? Non lo sai Se neanche lo sai Che cos'è? Non capisco È una borsettina Con dentro una sorpresa Che bello Dai mi piace Sì Ma niente No te non piace? È troppo impegnativo? Anche io Il pit quello Ma senti questo qua Lo abbiamo a casa nuovo Lascialo giù E prendi il pop it Appunto Prendi il pop it Ok Tu hai preso questo? Da bene Ma che super aperitivo è arrivato qua E dimmi amore Stasera vuoi fare il bagno? Sei contenta? È una figata quindi Cosa avete preso da bere? Un'estatè? Un crodino? Un altro estatè? Un'aranciata amara Ma tu stai mangiando? Ah pensavo il biscotto Cos'hai preso? Un po' il pop it E lo squishy Dai Allora facciamo questo aperitivo super Che caro l'unico Stasia Chiudi gli occhi Indovina il gusto La bottiglia d'acqua naturale E la gasata? No Sì Arrivano la mia soglia Guardate che voleva andare a mangiare la pizza Sistetta Eh? Una pizza Hai guardato? Io ho visto che hai aperto gli occhi Hai il pomodoro? Eh? Il pomodoro? Hai spiato? No Sei una spiona? No Comunque brava giusto Vanessa che tu chiudi gli occhi E indovina Il gusto Ah bene Quello di quello Quello con la cosa dentro La crocchetta La crocchetta? Eh la crocchetta Con le patate Brava Adesso toccate Chiudi gli occhi Aspetta eh Vai là Cos'è? Arancia? Sì Buona E vabbè Chiudi gli occhi Lo sapevo cos'era Ok Fai a? Mangia Il bacio Sì Che non volevo però Vabbè Ciao 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 E tanti like Mi raccomando eh Ciao 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 Volete dell'affettato? Rispondetemi seriamente No Rispondimi seriamente Sì o no? Quale è quale? Tu no Ok Il salame Il prosciutto La bologna Il cotto Il prosciutto cotto Il maiale Com'è che si chiama? Il maiale Vuoi un maiale? Il prosciutto crudo? No Quello lì ha forma La mortadella Quello che mangiavo da cuccola Ma l'orsetto? Sì Ma non c'è l'orsetto qui Vero? Quindi niente? Quindi il prosciutto Quine Basta Siamo al supermercato E questi ho detto che non li voglio Prendili No li hai presi tu Bimbe siamo tornate a casa Anastasia si è cambiata Perché si era spruccata La nostra morning routine è finita Vi siete divertite? Sì Avete fatto una buona colazione Un ottimo aperitivo con la nonna Elisa Buona per ragazzi Anastasia Buona per ragazzi Facciamo il nostro salato Boom 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 Gira Boom E abbraccia Che carine Baccino Belle e dolci le mie bambine Quindi il video finisce qua Qua E Iscrivetevi al canale Ti vedo la campanella Lasciate un web Like Questo video Ciao Un attimo ragazzi Guardate No No Tu vai lì Guardate I Ciao Ho Vabbassi